le elezioni amministrative sono un banco di prova importante per tutti i leader politici ma lo sono ancora di più per il centro-destra dove gli equilibri interni potrebbero spostarsi a seconda di quello che sarà il risponso delle urne tra questa domenica e la prossima quando si voterà per i ballottaggi l'obiettivo di Giorgia Meloni è consolidare la leadership nazionale e di coalizione che le attribuiscono i sondaggi mentre Matteo Salvini punta a preservare la sua leadership soprattutto adesso che riceve attacchi da tutti i fronti per il viaggio mancato a Mosca e per il caso dei biglietti che erano stati acquistati dall'ambasciata russa e poi rimborsati dalla Lega una volta sfumata la missione secondo il Corriere della Sera sarà soprattutto l'esito del voto a Verona ad avere un peso rilevante all'interno del centro-destra innanzitutto perché se Damiano Tommasi dovesse arrivare al secondo turno contro l'uscente Federico Osboarina consentirebbe al centro-sinistra di provare a realizzare il più impensabile dei ribaltoni in caso di conferma di Sboarina esulterebbe soprattutto la Meloni, dato che il sindaco uscente è di Fratelli d'Italia se dovesse concretizzarsi una clamorosa sconfitta paradossalmente attrarne vantaggio potrebbe essere Salvini in caso di vittoria di Tommasi ha confidato un berlusconiano al Corriere Salvini respingerebbe gli attacchi alla sua leadership nella coalizione, Meloni, e anche nel partito, Zaia è presto però per parlarne per fare calcoli questo sarà semmai un tema caldo per i ballottaggi prima c'è da fare la conta del primo turno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.